Continua l'opera di restauro del patrimonio monumentale e artistico della città messa in campo dall'amministrazione comunale. Dopo l'intervento di ripulitura e consolidamento della Fontana della Pupporona, un altro simbolo del centro storico sarà oggetto di restauro. Si tratta della statua della Madonna dello Stellario, della colonna e del basamento. L'intervento sarà realizzato grazie al contributo di 15.000 euro della Fondazione Banca del Monte, sommato ai 15.000 messi a disposizione dal Comune. Un intervento che si colloca all'interno di un obiettivo molto più grande che è quello di ripulire, restaurare una serie di monumenti importanti, la Pupporona che è finita poco tempo fa, altre fontane e altri monumenti anche fuori dalle mura come quello davanti al campo di Marte, altri simboli della città che hanno un loro significato intrinseco. Nel dettaglio, in base alla ricognizione effettuata dal restauratore Massimo Moretti che eseguirà l'intervento, le superfici in marmo si sono consumate a causa degli agenti atmosferici e dell'inquinamento e in alcuni punti si sono staccati frammenti e create fessure. L'intervento di restauro, che inizierà a fine febbraio, consisterà prima di tutto nel fermare frammenti in parziale di stacco con apposite resine. Successivamente saranno rimosse le patine e le croste. Infine sarà disteso su tutta la superficie del monumento uno strato protettivo irripellente.